Siamo in una situazione seria. Oggi registriamo un boom, una crescita enorme di contagi in età pediatrica. A Santo Bono cominciamo ad avere difficoltà perché abbiamo ormai decine di bambini che vengono ricoverati per contagio da Covid. La situazione sta cominciando a diventare preoccupante nei luoghi di lavoro e la cosa ancora più preoccupante è che cominciamo ad avere centinaia di persone del comparto sanitario che sono contagiate. Se la tendenza è questa oggi, ho il dovere di dire ai nostri concittadini che da settembre in poi noi avremo una situazione di grandissima pesantezza. Perché? Perché avremo il mese di agosto, già oggi abbiamo migliaia di persone che sono in ferie, ma in modo particolare ad agosto avremo un rimescolamento sociale e rischiamo di ricominciare a settembre con i problemi che riguardano le scuole, la frequenza scolastica, la DAD, con i problemi dei trasporti. Al punto in cui siamo diventa determinante il senso di responsabilità e di consapevolezza di ogni cittadino. Cosa fare? Dobbiamo intanto completare la quarta dose, sollecito i medici di famiglia a prescrivere il farmaco antivirale. Grande prudenza nelle famiglie, i festini, gli incontri, vediamoli cominciare a limitarli e vediamoli cominciare a estendere l'uso della mascherina.